Sì, esplodo stasera, esplodo, esplodo E da un bel po' che non faccio video perché non mi viene voglia di parlare adesso di mercato Perché ancora è tutto fermo e lo sappiamo tutti che il mercato in entrata dipende dall'uscita E siamo praticamente bloccati Cioè cazzo mi devo mettere a fare un video sulla National League Che Zagnolo si è rotto di nuovo il crociato Io veramente impazzisco Cioè Zagnolo tra 22 giocatori si è rotto di nuovo il crociato Ok che deve fargli usare gli strumentali ma intanto Biafora su Twitter Ha affermato che Zagnolo si è rotto il crociato Hanno detto anche che il padre di Zagnolo è preoccupato e anche lui teme il crociato Ha parlato adesso il medico del CT della Nazionale E praticamente ha affermato che Zagnolo ha avuto una forte distorsione allo stesso ginocchio Dove si è operato e quindi questo a me mi fa presagire che si è rotto di nuovo il crociato Io veramente non lo so un calvario Questo giocatore è ritornato due mesi dall'infortunio Se eri di nuovo rispaccato del tutto Io adesso non so a Roma cosa fare Perché è un problema che ti va a gravare Perché alla fine il tuo giocatore è più forte di Rosa insieme a Diego E niente Hai perso tra virgolette un investimento Come lo posso chiamare? Sei andato a perdere un giocatore che ti può portare in Champions Un giocatore che vale 40-50 milioni di euro E ti può fare la differenza E noi adesso la prima di campionato ci abbiamo Zagnolo che sicuramente si è rotto il crociato Io spero di no perché se si è rotto io cado in depressione E ci abbiamo Petro che è scocciato E ci abbiamo solamente Mkhitaryan Perotti e altro pattume in Rosa Cioè noi tra 22 giocatori che ci abbiamo in Rosa Si è rotto Zagnolo Io penso che stasera mi butto di sotto dal quinto piano Perché non è possibile Se ne va pallotta Se ne vanno tutti Ma gli infortuni rimangono Ok che non si è fatto male al Tricoria all'Olimpico Ma non è possibile Ma se poteva rompere qualcun altro Porco due 22 giocatori Si è rotto Zagnolo Zagnolo che è rientrato l'altro giorno Non è possibile Due infortuni a 21 anni Cioè ma poraccio Io non so che faccia Io bestemmi Io spero che arriva la smentita Però da come ha detto il medico Forte distorsione Non l'ha voluto dire Ma secondo me si è veramente ridotto il crociato Maledetta National League Maledetta National League Ma chi cazzo ha fatto la UEFA Io andrei dalla UEFA Risarcimento d'anni Il giocatore più forte che c'ha in Rosa Si è infortunato per una competizione di merda Che non vale un cazzo Le amichevoli Vale come le amichevoli Il torneo delle amichevoli Porca puttana Il torneo delle amichevoli Che manco di che ti manda al mondiale Subito al mondiale Te fa solamente scalata in posto al mondiale Nel senso nel girone Invece Il girone delle qualificazioni Invece di incontrare una squadra Cinque squadre Che ne incontri quattro Mortacci tua Mortacci tua E la UEFA che cazzo ha fatto Mannaggia Sarà una stagione Già che inizia di merda Perché la Roma Oggi Ha parlato Fienga Ottime parole di quelle che ha detto Fienga Ero felice oggi Più o meno della giornata Sì che ero felice Arriva l'infortunio di Zagnolo Non è possibile Tutto il pattume che abbiamo in rosa Adesso bisogna capire che facciamo Perché O prendiamo O riteniamo Otteniamo un der E Fonseca ha rotto il cazzo E se lo pia E quello comincia a integrare il rosa Oppure comincia a comprare un altro Non è possibile Ciao a tutti